Si è tenuto mercoledì 9 settembre presso il centro sportivo Chico Nova nel pieno rispetto delle normative anti-Covid-19 il secondo appuntamento degli Open Day Bengals per avvicinare la gente al football americano. Ai nostri microfoni il presidente della società. Allora, noi nasciamo nel 1990, quindi parliamo di parecchio tempo fa, ci sono 30 anni. Abbiamo sempre fatto attività, football in tutti questi 30 anni, abbiamo portato avanti il football, siamo l'unica squadra di football americano della provincia. Abbiamo partecipato e stiamo partecipando, quest'anno avremo dovuto partecipare e l'anno prossimo parteciperemo al campionato di seconda divisione nazionale di FIDAF e l'obiettivo di questi mini camp, chiamiamoli così, è quello di far sentire e far sapere alla gente, ai ragazzi, che ci siamo. Anche se il campionato purtroppo è saltato. Che ci siamo, continuiamo a fare attività e continuiamo a fare reclutamento per l'attività sia giovanile, sia di flag football, sia della prima squadra, chiaramente. A seconda poi dei ragazzi che arriveranno, verranno poi indirizzati dove meglio è per loro e secondo le nostre valutazioni, chiaramente. Ecco, in questi allenamenti su cosa vi concentrerete? In questi allenamenti, considerando che sono appunto dei mini, chiamiamoli mini camp, ci concentreremo soprattutto sulla parte tecnica, i fondamentali, per far vedere loro, far capire loro cos'è il football dal punto di vista della tecnica. Chiaramente, dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista della, chiamiamola, strategia, non si può fare questo in un'ora, però far in due ore, scusatemi. Per far capire loro cos'è, dal punto di vista tecnico, come si svolge un allenamento, cosa vuol dire ricevere una palla, cosa vuol dire avere una posizione in campo, avere un'idea di quello che è il football. Questa è la nostra idea, soprattutto per far capire a loro se questo sport gli piace, è una cosa fondamentale. Poi, ripeto, è un'esperienza per loro che credo sia positiva e formativa, perché conoscono uno sport diverso. Qualcuno di loro, mi auguro, si innamorerà di questo sport e chi non si innamorerà avrà fatto un'esperienza diversa dal calcio, dal basket. Per quanto riguarda poi chi proseguirà gli allenamenti, anche se non giocherà in campionato, avrà comunque la possibilità di migliorarsi anche su quelli che sono i fondamentali, capire meglio questo sport e arrivare preparato al campionato che affronterà tra due anni. Esatto, fondamentalmente, chiaramente chi, secondo la valutazione dei coach che li seguiranno e li seguono sul campo, i giocatori verranno indirizzati o alla prima squadra, chiaramente anche se giovani, perché comunque se una persona ha qualità fisica, talento, tecnica e volontà, sono tutte cose che vengono valutate dai nostri allenatori, quindi può essere indirizzata alla prima squadra. In alternativa, nel caso magari lui sia ancora un po' acerbo sotto molti punti di vista, perché comunque parliamo anche di ragazzi piuttosto giovani, c'è la squadra di flag football dove viene privilegiata la parte propedeutica al tackle football e poi c'è la squadra giovanile che quest'anno purtroppo per motivi legati al covid che conosciamo benissimo tutti non è potuta decollare perché il reclutamento è stato limitato da questo problema, da questo grossissimo problema che chiaramente non ha colpito solamente noi, ma tutti gli sport. Ecco in conclusione vuoi fare un appello magari a chi volesse provare questo sport, dove trovarvi e magari ricordare anche i contatti? Allora, partiamo dai contatti, abbiamo un sito che è bengasbrescia.it, abbiamo una pagina Instagram, abbiamo Facebook che sono i social più in vogue e più conosciuti, oltre questi chiaramente ci trovate sul campo adesso fino a ottobre per la squadra di flag, il martedì e il giovedì, poi con la prima squadra dalla metà di ottobre, ma comunque tutte le comunicazioni passeranno tramite i canali social, quindi Facebook, Instagram e il sito internet, cominciare la preparazione della prima squadra, quindi comunque potranno trovarci sul campo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.